Da lontano, conclusione deviata che sfila a lato, poi entra in campo Marchesano che si fa subito notare con questa conclusione respinta dalla traversa, sono le prove generali per il 3-0 che chiude i conti un capolavoro del giovane bellinzonese che salta così un al, così De Carli e così Mitrovic vittoria meritatissima per il Bellinzona che sale a quota 6 in classifica